è quello che gli ha ripreso un po' e poi si bloccava lì eh ma hai visto? si ma gli ero già dato avanti e ho detto ma che va la molla e salto indietro perchè vabbè Ciri ha messo la sesta eh tiene su tutta tiene su lavora senti come trascinava la quarta non sei neanche spenta hai visto qua? al momento che hai saltato la quarta lo metti dietro la terza e comincia a perderti eh si 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 l'hai ripreso bene dai dai prova di quella non ce la fai devi fare in terza per forza la mettila a quinta e poi se solo è minchia Ciri Ciri poi sulla corrente Ciri eh l'ho perso là ho preso dentro il ramo ho strappato via la moto c'è la fascetta c'è il zambino il malubro no la tira quando giri tutto dall'altra parte vado a casa gli metto il motorsito 1 metri in mezzo ma cosa devi fare? eh la fascetta eh ma tanto c'è questo ma Ciri tacca il chino che lo tacchi qua non vuole che la fascetta con le balle tanto che poi si spegne vedi che non fa niente e dopo a casa gli metto un fascettino che è sta cosa qua? questo si imbizzarisce eh va le leve dove ce li ha giù c'ha le leve giù sotto si oh se sei in discesa come cazzo fa ad arrivarci ma non ti fa male il po' no ma non ci arrivi in discesa poi grazie di fatto in tutte le discese vedi che vado giù vado giù diritto non vedi che velocità non vedi che velocità è molto da professionista eh è una moto a scappellare se vedi il fumo aspetta qua io credo non ti pecca più il vua sei lì una fascettina si sul manovro no non ce l'ho non le ho ancora messe su questo hai ragione cazzo hai ragione che non ce li ho sai perché l'ultima volta al cinema ve le ha strappate via tutte ma ha strappato via quelle le bottigliette ma ha tolto tutto se non ce l'ha fatta ammazza mi nota mi nota che sei capace in mezzo terza terza allora regolazioni freni pedivelli pedivelli lui è un selvatico non è una roba lui guida le pedivelle che regolazione vuoi fare? le pedivelle è freno freno marce tu sei troppo in avanti ma lui guida così eh tutto è storto lui guida la puma la bisbino la bisbino si gira così eh terza non è andato fuori i giri tutto è ingobbito la mia andata fuori i giri no 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 hai giusto bobbè ma ce l'aveva bene qua lo sentivi perfetto non è andato fuori i giri guarda è giusto 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 è pesante guarda allora la tua è pesante no no è leggera è leggera è leggera spampi prova che fai un salto di un metro e mezzo qua con questa prova prova la prova a spampi adesso lì fa un salto alto così oh è leggera questa qui davanti è molto leggera grazie